Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole e a Brindisi in queste ore i rappresentanti dell'ente provinciale stanno svolgendo alcuni sopralluoghi nei diversi istituti di loro competenza per capirne le criticità ma guardare e anche osservare lo stato dell'arte dei lavori svolti. In particolare in queste ore il sopralluogo si è svolto presto l'Istituto Alberghiero e presto l'Istituto Tecnico Industriale Majorana. Ringrazio per questa attenzione che c'è da parte dell'ente locale nei confronti delle scuole e delle problematiche che stiamo affrontando. Ci stiamo preparando al meglio predisponendo in termini di sicurezza prima di tutto, sicurezza strutturale poi anche di sicurezza sul piano sanitario i nostri ambienti. Ovviamente sono necessari degli interventi perché per diversi anni non c'è stata un'attenzione costante, strutturale ai nostri edifici, cosa che in questo ultimo periodo invece abbiamo avuto da parte della provincia. E stiamo indicando anche delle criticità che ancora ci sono in questo nostro istituto anche alla luce delle disposizioni che dobbiamo adottare. Oggi diciamo che ultimiamo i sopralluoghi negli istituti per verificare lo stato dell'arte degli interventi che sono già in atto e che comunque si devono ancora fare per quanto riguarda la situazione dell'emergenza Covid-19. Abbiamo un confronto diretto con i dirigenti che comunque ci stanno tranquillamente ogni volta elencando e mostrando le criticità degli istituti. Noi stiamo cercando di intervenire quanto più possibile, comunque mettendo come priorità sempre la questione della sicurezza dei ragazzi.